Ho incontrato una persona, un uomo o una donna, posso sapere da quanto tempo... ...fai male, se non ti esponi sei attaccata perché non lo fai... ...compagni perché piacevi di più ai padri che ai ragazzini, dal mio corpo ero impaurito anch'io, avevo un fisico da zia, così per amare... ...di ragazzini a 15-16 anni, era una bellezza, 4.000-5.000 persone, non ero proprio campania... ...timido, perché? Non lo so... ...un figlio e spesso succede anche che ci si accorgono...